Ma quando smetterà di piovere, amici miei, finalmente un po' di luce è tornata. Certo, nei giorni scorsi era così buio che non solo era deprimente, ma era anche impossibile guardarci correttamente in volto. Piove, piove, prima o poi smetterà, però se abbiamo il sole dentro il nostro cuore potrà avvenire qualsiasi pioggia, potrà avvenire qualsiasi alluvione, noi continueremo ad essere allegri, pieni di speranze, pieni di ottimismo in un futuro migliore. E d'ora in poi, nei vari video che faremo e che farò sino a Natale, a fianco della mia immagine ci sarà sempre un tourbillon di copertine di e-book che sarebbe interessante per voi acquistarli, leggerli, commentarli. Già, perché non mandate dei commenti sugli e-book Simonelli Editore che avete letto? Grazie. 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 Grazie.